Iwakus, allenatore Cio, con il numero uno Gianluigi, numero due, parti! Davano si accentra, cerca e trova Lucarelli che si può girare, sinistro, Davano davanti a Buffon, miracolo di Gigi! Ma solo la volta ci mette una festa Gigi, al quarto minuto del primo tempo Davano solo soletto davanti a Buffon, la conclusione di... Nicely done, chance to shoot, no, prefers to leave it, shot comes in, oh, tipped away by Buffon, it took a very awkward deflection and might well have cracked in, the shot came from Pouffon. Oh, Lucarelli on the turn, a chance here, oh, great save by Buffon, Davano with an excellent chance, Lucarelli's turn and shot, cannon into the path of Davano. Cio, cosa ha sbagliato? Lucarelli. Grande tiracolo di Buffon, ma cosa ne ha mai sbagliato? Lucarelli, il corner intanto già fattuto da Nivon, il corno è andare panico di Buffon, il numero uno! Passiamo in porta, il numero uno ragazzi, voi sapete che i verde palla... Tillyvini ha fatto il suo passaggio, e questo è un buon ball in! Buffon ancora! Oh, ha curto il proprio in! Credo che era Tavano che stava lurendo! Oh, Buffon, cosa un save! Fernando Menegazzo, l'inserimento, balla sul sinistro! Fernando Menegazzo, Super Buffon! ...couldn't get a good header on it, Andreu a strike! Great save again Buffon! Wow, he's the best candidate of them all! GG Buffon! ...